Un appartamento chiuso da anni, sequestrato, inutilizzato perché la magistratura lo aveva requisito ed aspettava di decidere a chi affidare la struttura. Finalmente, qualche anno fa, si decide. La struttura abitativa sequestrata, affidata al comune, viene consegnata, tra le tante associazioni che ne avevano fatto richiesta, ad una che nel suo genere è molto particolare. È un'associazione formata da genitori che vivono il problema dell'autismo, genitori coraggiosi che hanno messo da parte l'angoscia, le preoccupazioni e rimboccate le maniche, hanno chiamato a raccolta altre mamma, altri papà e si sono aiutati, confidati ed insieme hanno vissuto e vivono l'autismo dei figli. Aiutandosi, consigliandosi e perché no? Studiando insieme ad esperti, medici, psicologi, terapeuti. Un'associazione che finalmente ha oggi una struttura dove poter accogliere, incontrare, colloquiare, confrontarsi ed aiutare. Una struttura oggi sorridente, allegra, piena di vita, una struttura che diventerà, ne siamo certi, centro per l'autismo, punto di riferimento per tante famiglie che vivono il problema. E da ieri sanno e sapranno che sicuramente riceveranno perché incontreranno mamma e papà che hanno patito e che comprendono il dolore e la solitudine, in cui purtroppo talvolta, proprio a causa dell'autismo, si è costretti a vivere in solitudine. Abbiamo scritto una bellissima pagina di storia per la nostra città. Io sono felice stasera perché, oltre a dare un segnale forte di legalità, trasparenza e lotta alla criminalità, aver dato in assegnazione un bene confiscato dalla criminalità organizzata ad un'associazione, ma un'associazione che lavorava nel silenzio, lavorava nel silenzio e faceva tanto per i nostri figli. E quindi per noi è un doppio merito, è un vando per Pagani, perché dare questa sede all'associazione per l'autismo significa voler far uscire dall'anonimato una patologia che ancora oggi noi amministratori e le ASL di competenze non hanno ancora capito la grande necessità che le famiglie hanno per avere un supporto. Quindi sono felice e sono contento perché da Pagani parte un segnale forte, ma non solo per il comprensore, io dico a livello nazionale, perché associazioni come queste, così attive, non ce ne sono in Italia. Alle famiglie che hanno bisogno adesso hanno un punto di riferimento, un centro specialistico per queste patologie, quindi venire qui e trovare anche le esperienze per chi già vive questo dramma e che sa dare un consiglio a chi magari non si è ancora reso conto che vive una tragedia in casa. Grazie. Grazie.